Abbito pericolosamente il centro abitato di Colonia Superiore, località Rosseto, un incendio che è divampato da ieri mattina e per il quale si è reso necessario l'impiego di ben due caneder della protezione civile regionale che hanno fatto la spola tra Colonia Marina e il centro storico per riversare migliaia di litri d'acqua e cercare di attenuare e spegnere le fiamme. Una situazione che a causa pure del vento si è aggravata nel corso delle ore. Tutti hanno sperato che non possa far scaturire danni a persone o cose, parte l'irreparabile danno ambientale dell'ecosistema che andrà a ripercuotersi ovviamente sulla salute della collettività. Non è la prima volta che incendi di questo tipo devastano interi territori della fascia ionica reggina. Ieri l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Siderno si è dislocato anche a Siderno Superiore, dove un incendio di grosse dimensioni anche lì ha creato non pochi problemi e tanti danni. E' inutile ripetere che quasi tutti gli incendi sono di origine dolosa e perciò le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di individuare i piromani. L'attività preventiva è molto importante, ma anche quella di segnalare il principio di un incendio. Lo ricordiamo, ci sono i numeri verdi, ma anche il 112 e il 115.